Quest'ero io, qui non si vede tantissimo, però qui era un'infezione di lana. Ciao amici di Milano Bella da Dio, sono qui per raccontarvi un nuovo fatto spiacevole. Vi ricordate un mesetto fa quando abbiamo parlato della signora anziana che è stata aggredita dal bastonatore folle, detto anche il bastonatore più veloce dell'est? Ebbene sì, il nostro amico si è ripetuto, non è più una signora anziana, ma ha segnato per bene a questo giro una giovane ragazza e la sua cagnolona mentre erano a spasso per Milano. Stiamo andando a incontrare Nicole per farci raccontare l'accaduto. Allora, qualche settimana fa stavo passando vicino a Loreto e ero con il mio cane, stavamo camminando tranquillamente sul marciapiede, ci siamo trovati davanti questa persona che ha detto farfugliando qualcosa al mio cane. Io non ho capito bene, però ho visto che non era una persona comunque troppo stabile, quindi mi sono tenuta l'ana che è il mio cane, il guinzaglio, e stavo cercando di passarli accanto. Mentre appunto ero lì che stavo camminando, lui è arrivato e con una stampella mi ha colpito la faccia, quindi vicino tra l'occhio e lo zigomo. Quindi ho perso un attimino la lucidità, nel frattempo il mio cane chiaramente, che è entrato in difensiva, ha provato a saltargli addosso e lui ha avuto la reazione di tirare una stampellata anche al cane. Qualche appunto secondo per riuscire a capire cos'era successo, poi chiaramente sono venute persone dai vari negozi e ho capito che questa persona comunque non era la prima volta che aveva questo tipo di atteggiamento, che era già stato appunto denunciato e segnalato tante volte, ma che purtroppo insomma non c'erano molte cose da fare. Esattamente, quindi se ben vi ricordate, il nostro amico stampellatore folle ha colpito un'altra volta. La prima volta ha marchiato per bene la signora 83enne, questa volta ha trovato Nicole, che 83enne non è e quindi difendersi, è in grado di difendersi, però come tutte le volte venite colta la sprovvista perché... Esatto, è stata proprio una frazione di seconda ed è stata anche molto forte, quindi è chiaro che serve qualche secondo, qualche minuto per poi riuscire a capire, lui nel tempo comunque se ne va, non è che rimane lì, quindi poi anche non sono stata in grado di fare nient'altro. È il classico iter del nostro amato amico, questa volta non ci metteremo di nuovo sulle sue tracce, tanto sappiamo già quello che fa, sappiamo già benissimo chi è, magari vi ricordiamo con una foto l'individuo, tanto anche dalla tua descrizione, non abbiamo bisogno di cervellarci per andare a rintracciarlo. è che è un fatto spiacevole soprattutto per una donna trovarsi di fronte a un individuo del genere, immagino. Sì, sì, no, è chiaro, ti prende alla sprovvista, non sai cosa fare, non ti senti poi tutelata in nessun modo, quindi rimani così e la subisci, la vivi sempre un po', queste cose si vivono da passivi purtroppo. Sì, sì, no, anche perché è passata qualche settimana dall'accaduto, fortunatamente... Tutto è passato. ...i segni non li porti più sul viso, e meno male, tutto è passato, però ti rimane dentro anche quella paura, quella insicurezza di vivere a pieno questa città. Assolutamente, sì. Milano purtroppo ultimamente non è più sicura, insomma, che siano le 10 del mattino, le 6 del pomeriggio, le 3 di notte, devi sempre stare pronta comunque, cioè camminare, ma guardarti comunque sempre le spalle, qualsiasi ora e in qualsiasi zona. Sì, poi dispiace anche il fatto che, va bene, te la vittima, sei la vittima principale, però anche la tua povera bestiolina che non c'entrava niente, anzi ha fatto il suo dovere. Ha provato a difendermi, ha provato a difendermi, sì, sì. E sei beccata, una bella stampellata, hai dovuto portarla anche dal veterinario. Assolutamente, sì, ha avuto, insomma, un'infezione, insomma, all'occhio, fortunatamente nulla di grave, adesso l'ho curata per qualche settimana, ora tutto è passato. Ho visto che c'era un bel... Aveva fatto, esatto, aveva preso proprio l'interno dell'occhio, anzi, il veterinario mi ha detto che proprio per questione di millimetri avrebbe potuto fare, insomma, finire peggio, perché avrebbe potuto perdere la vista, quindi diciamo che siamo state entrambe fortunate, ecco. Sì, perché anche te è andata molto vicino. Anche a me aveva preso, sì, l'occhio, lo zigomo, quindi infatti mi era consigliata tutta questa parte qua del viso, però... Quindi abbiamo rischiato di avere due toppe sull'occhio, il cane e la padrona, in un colpo solo, in pochi secondi, in pochi istanti. Noi quando siamo messi sulle tracce dello spadaccino mascherato, che tanto mascherato non è, abbiamo chiamato in diretta i vigili, abbiamo chiamato in diretta la polizia, abbiamo tentato di segnalarlo, oltretutto, mentre camminavamo, tantissimi negozianti ci hanno detto che a loro volta avevano segnalato. immagino che anche te hai chiacchierato con qualcuno che ti è corso in soccorso. Assolutamente, è successo uguale, perché sono usciti appunto anche vari negozianti che ovviamente è passato un attimino lo sciocca, hanno detto guarda, noi l'abbiamo segnalato tantissime volte, perché non è solo questione di bastonata, ma dà anche fastidio. A quanto ho capito, non lo so, propone anche delle cose, non ho capito bene, però l'hanno segnalato talmente tante volte che anche a me hanno un po' scoraggiato sul fatto di andare a denunciare, mi hanno detto guarda, tanto non faranno niente, perché non possono fare niente. Sì, perché vi ricordiamo che propone delle pastiglie di Bruffen, altri farmaci che tenta di vendere a ragazzini, ragazzi, donne, anche se lui giura alla chiesa di non fare del male a nessuno. Guarda la signora, con questa. Giuri, giuro alla chiesa. Perché non le dai a me? Giurare alla chiesa. Perché non le dai a me con questa? Però, l'iter è quello e se tu lo respingi, ta-tam! A me non aveva proposto niente, però, devo essere sincera, probabilmente le dava fastidio il mio cane, non lo so, però è andato proprio diretto, insomma. E la riflessione che vogliamo fare con Nicole è il fatto che ancora oggi questa persona possa girare a piede libero per la città. Non è un clochard, perché abbiamo scoperto che casa ce l'ha e a quanto pare anche una macchina e lui gira indisturbato, libero di colpire, libero di fare. È una persona anziana, l'abbiamo visto, però nulla giustifica il fatto che un anziano possa delinquere liberamente. anche perché ha la forza di un giovane, quindi, insomma, in queste cose io lo considero un aggressore senza età, ecco. Mi hai fatto vedere le foto perché oggi la tua bimba non è qua con noi, perché mi hai raccontato che è all'asilo. È all'asilo dei cani. È all'asilo dei cani, perché è importante anche educare i cani e tanti non lo fanno. Che razza è la tua cagnolona? È un incroso tra un pit bull e un dogo. Ah, quindi anche un bel... Quindi avrebbe potuto difendermi tranquillamente. Io mi immaginavo Nicole con un chihuahua. No. è pazzesco come miri sempre agli occhi, cioè lui mira sempre al viso, non sbaglia mai. Secco, diretto, papam, con questa stampella che poi la stampella io penso che sia anche un accessorio, ho notato, perché quando l'abbiamo seguito quella mattina quando disinnesca la stampella va via anche bello spedito. Io quando è successo tutto è tempo, come vi dicevo, di capire proprio qualche minuto, forse uno, due, lui non c'era più. L'abbiamo cercato tra le vie, sparito, quindi sicuramente confermo che sa andare al passo suo. Quindi con Nicole vorrei dire una cosa, a chi di dovere e che ci segue sempre la pagina perché c'è sempre l'occhio che scruta, è già il secondo danno che provoca a questo individuo. Una denuncia è stata fatta, l'altra denuncia non è stata fatta ma per il semplice fatto che potrebbe cadere nel dimenticatoio come la prima. Cosa facciamo? Ci auguriamo che qualcuno, chi di dovere inizia a prendere i giusti provvedimenti nei confronti di questa persona pericolosa. Sappiamo che Milano ci sono tantissimi altri problemi però speriamo che sia un inizio visto che una donna di 83 anni e una giovane ragazza sono state segnate da quest'uomo.